Buongiorno, mi scusi, stiamo facendo, vedi lì c'è una telecamera, ecco stiamo facendo la produzione a questo cd di Federica Caboni dove ci sarà una raccolta di beneficenza, ecco vorrei intervistare delle persone comuni e a loro far fare questo messaggio. Io sono molto, molto, molto comune. Allora io direi, lei prende il cd e dice anche io ho comprato il cd di Federica Caboni, fallo anche tu, lo dica se riesce dovrebbe interpretarlo un po' come fosse un attore, cerchi di interpretarlo un po' come nei film che vede in televisione, se ce la fai, se non ce la fai lo faccia come può. Che mestiere fa lei mi scusi? Comune. Fa il comune, ho capito, lavoro in comune. Anch'io, io comune, ho comprato il cd di Federica Caboni, di Federica Caboni, fallo anche tu. Sì, fatelo anche voi. Si riesce a fare così col dito? Perfetto. Fatelo anche voi perché è un ottimo cd, delle belle canzoni, fatelo anche voi. E se lo colpia anche lui, colpiatelo anche voi. Mi scusi, ripetiamo il suo nome come si chiama lei? Non mi faccia ridere. Le serate di compagnia danno tanta allegria, tanto mare... ... ... Grazie a tutti